Musica Questa mattina, domenica 11 marzo, intorno all'8.30 arrivo in via Bayont, un uomo di 77 anni è ucciso con una pistola alla madre convivente di 101 anni e poi si è tolto la vita. Prima di compiere il gesto ha chiamato il 112 dando l'allarme. Ha lasciato una lettera in cui affermava di avere un tumore al pancreas e si scusava del gesto. L'arma era legalmente detenuta in casa con documentazione regolarizzata al commissariato nel 2015. Ora gli accertamenti sono in corso, ma da come si vince dalla lettera lasciata, per che l'uomo avesse deciso di togliersi la vita a causa del tumore e che non volesse abbandonare l'anziana madre. Grazie a tutti.